Buongiorno! Inizia adesso il vlog con un ospite speciale Ciao! Luciano! Eccolo qua! È arrivato stamattina, adesso è già ora di pranzo E là che bel ciuffo! Abbiamo già registrato due video che presto vedrete sui nostri canali Quindi mi raccomando! Sì, esatto! Stay tuned! Sì, giusto! Bravo! Esatto! E l'inglese! E adesso tra poco pranziamo, devo preparare qualcosa da mangiare E poi oggi pomeriggio registriamo altri due video a tema Harry Potter Non vedo l'ora! Sì, li vedrete tra un po' quei video a tema Harry Potter Perché stiamo pre-registrando, visto che lui tra poco inizia la scuola Quindi avrà più impegni! Esatto! Sarà leggermente più impegnato Però sei felice di iniziare la scuola? No! No, per nulla proprio! No, no! Immagino! Io che palle... Vabbè, i capelli adesso mi dovete scusare Ma sono un po' accaldata perché su di sopra faceva veramente, veramente caldo E io ero con la felpa! Sì, infatti! Adesso ho una maglietta, ma io ero con la felpa! Le pizzate! Ehm... Che altro vi posso dire? Beh, che stasera poi andiamo anche a Milano Quindi sarà un vlog abbastanza interessante, spero! Vero, esatto! E io sono sempre più felice di aver ritrovato il caricabatteria della macchinetta fotografica Perché, cioè, non sopportavo più fare il vlog col telefono Ma lui sta facendo il vlog col telefono Esatto! Quindi, in realtà... Il vlog nel vlog, come tutti quanti! Oddio, il vlog nel vlog! Anche noi il vlog nel vlog! Sì, anche Luciano sta vloggando Vi lascio qui sotto in descrizione il link del suo canale Così potete vedere il retroscena anche sul suo canale Vi lascio il link del suo vlog, del suo canale Perché stavo indicando il vlog e non te? Vabbè, qui sotto nella descrizione E adesso vado a preparare da mangiare Vado a preparare da mangiare Da brava mamma Il pranzo è servito, vedete questo fumo, effetto fumo Perché abbiamo fatto gli gnocchi e adesso ci mettiamo il pesto E volevo farvi vedere che carina la tavola con le tovagliette che ho comprato ieri da Tiger Sono bellissime E qua c'è Luciano che sta mettendo il pesto Cerchiamo di parlare con la dizione giusta Il pesto Il pesto Non si dice pesto o pesto? Eh, non lo so, questo non lo so Chiediamo, esatto Chiediamo a chi se ne intende E qua c'è anche il catalogo di Kea Perché sono curiosa di vedere le nuove cose di Kea Vabbè, lasciamo stare Comunque, buon appetito! Eccoci qua, secondo outfit della giornata Guarda, guarda come siamo belli Serpeverde e Grifondoro Non si capisce quale sarà il tema del prossimo video No, per nulla proprio Le abbiamo messe così a caso Cioè, ci andava Perché, esatto Poi le bacchette, no Non servono a nulla No, ma io sembro cadaverica Eh, sembri una serpeverde, ti potrebbero poi Ci mancano solo i capelli biondo platino Comunque, adesso ci mettiamo a filmare altri video Stavolta tema Harry Potter E poi più tardi dobbiamo cambiare di nuovo outfit Perché dobbiamo uscire Quindi, oggi ci vedrete tipo Con mille outfit diversi Esatto Ah, vada che d'apra Aspetta, si blocca Esatto È finito qua il vlog Basta, cavali chiusi Stop Bene, siamo pronti per uscire Abbiamo fatto i video Abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare Vi faccio vedere con questa luce strana Il mio outfit Vediamo se si riesce a vedere con questa luce strana Aiuto Oddio, ho pure i capelli rossi Sembra che li ho rossi Comunque Questo vestito l'ho preso su Asos E mi piace tantissimo Perché è super lungo E tutto a coste E poi ho messo questa borsa della skinny dipa Forma di conchiglia olografica Perché il mio outfit è tutto completamente nero Qui c'è Luciano E quindi volevo mettere un po' di colore E quindi ho messo questa Guardate che bello Fa un bellissimo riflesso Volevo mettere questa conchiglia qui Quindi questo è il mio outfit di stasera Dobbiamo andare a due parti Uno è di Asos E infatti sono a tema con un vestito di Asos E l'altro invece è di Youtube Italia Questo è l'outfit di Luciano Così, l'outfit di Luciano Molto bello Grazie E il trucco appunto è sempre lo stesso Semplicemente mi sono rimessa Un rossetto nude sulle labbra Perché Quello la marrone l'ho messo solo per il video Adesso me lo devo portare dietro Celebrity Skin Ok, perfetto Possiamo andare Siamo arrivati Siamo riusciti a trovare parcheggio È quasi l'ora del tramonto Vedo la luce che pian piano sta diventando più rosa Comunque, prima tappa Andiamo al party di Asos Speriamo di trovare il luogo In fretta E perché poi dobbiamo anche andare da Youtube E guarda libero Speriamo di trovare cibo Esatto Abbiamo una fame perché non abbiamo neanche fatto merenda Fatto una merenda E quindi abbiamo famissima Speriamo di trovare il luogo Con Katy Perry in sottofondo E Luciano qui dietro Che si stava gli occhiali Regalati da Asos Andiamo alla prossima tappa Sono le 7.46 Stiamo andando da Youtube Yeah Eccoci qua Siamo in una zona che mi piace tantissimo Ovvero Corso Buenos Aires E stiamo andando alla location segreta Non è vero, non è una location segreta Segretissima Sì, molto molto segreta Siccome però sono le 8 Il party L'IPA Finisce alle 9 Non so Se ci sono ancora persone Spero di sì Oddio Che bello Perché so che ci saranno un po' di persone Che conosco Ovviamente Visto che andiamo da Youtube E io ho tanti amici Youtuber Qualcuno ci sarà che conosco In ogni caso c'è Luciano Che è illuminato Dalle insegne Sì perché qua ci sono tutti È la via dei negozi Quindi ci sono tutte le insegne Che illuminano di me Voglio vloggare Perché È troppo bello qua Io adoro Corso Buenos Aires Mi dispiace non aver ripreso Tanto del party Ma siamo arrivati verso la fine Quindi ho salutato tutti Siamo stati a parlare Ma poi dovevamo andare via Comunque la cosa positiva È che ora Siamo al Sushi All You Can Eat Siete di Milano Si chiama così Questo Sushi Io ci sono già state Ed è veramente buonissimo Quindi io e Luciano Facciamo questo appuntamento romantico Al Sushi Al nome di Candela Che non c'è La facciamo noi la Candela Esatto Quindi adesso Ci mangiamo la cena E sicuramente Vi riprenderò la nostra cena Perché è sempre bello Condividere il Sushi Tu puoi rivederselo no È tipo sognare ancora Abbiamo quasi finito Di già In realtà no Perché stanno arrivando Le portate Una ad una lentamente Quindi sembra che Abbia già mangiato tantissimo In realtà manca ancora un po' Comunque Questa tartara Forma di cuore È bellissima Io faccio raccontare a te Perché ho sonno Allora Stiamo facendo il vlog Allo stesso tempo Siamo tornati Da poco A casa Non so più dove guardare Dopo un bel sushino Sì Sushi buono Ma ci hanno messo mezz'ora A servire Anche 40 minuti Io mi stavo addormentando Noi lì anche Poi mi sono addormentato In macchina Esatto Mi sono addormentata in macchina No abbiamo sonnissimo Sinceramente E io per la prima volta Dico questo anno Sono le 00 Quasi e mezza Esatto E non vedo l'ora Di dormire Esatto Siamo distrutti Adesso andiamo andando Con i nostri pigiami di Harry Potter Tipo voi Harry Potter Quindi Così è il finale Noi vi mandiamo un grande bacio Speriamo che questo vlog vi sia piaciuto Esatto Speriamo molto Che il vlog vi sia piaciuto E buonanotte Buonanotte Ciao Ciao